Il gruppi di Reggio Calabria, dottor Antonino Foti, ha rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Locri, in composizione collegiale, 32 imputati coinvolti, a vario titolo, nell'operazione denominata Eureka. La prima udienza del processo è stata fissata per martedì 11 giugno nella sede del Tribunale Penale di Locri, in piazza Fortunio, con inizio alle ore 9. Si è già costituito, parte civile nel processo, il Ministero dell'Interno, mentre risultano persone offese, la Regione Calabria e il Comune di Bianco, che possono ancora chiedere l'ammissione in qualità di parte civile. Nel procedimento penale Eureka, che è stato coordinato dalla Procura di Strettore all'antimafia di Reggio Calabria, diretta dal dottor Giovanni Bombardieri, prossimo procuratore della Repubblica di Torino, sono contestati numerosi reati, che vanno a vario titolo e con modalità differenti, dall'Associazione per delinquere di stampo mafioso, all'Associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l'aggravante della transazionalità e dell'ingente quantità della produzione, traffico e detenzioni illecite di sostanze stupefacenti, alla detenzione, traffico di armi, anche da guerra ed ancora, riciclaggio, favoreggiamento, procurate in osservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori ed altro. L'indagine, condotta dall'autorità giudiziaria Regina, è stata avviata nel giugno del 2019 a seguito di raccordi tra l'arma dei carabinieri e la Polizia federale belga, che stava investendo su alcuni soggetti riferibili alla cosca denominata Nirta di San Luca, attiva a Genk in Belgio, dedita, secondo l'ipotesi investigativa, tra l'altro, al narcotraffico internazionale. Le attività dell'arma dei carabinieri sono state progressivamente stese a diverse famiglie di San Luca, interessando anche la locale di Indrangheta di Bianco, nel cui ambito sarebbero stati ricostruiti gli assetti interni in numerose condotte relative ad acquisto di cospicue quantità di cocaina per il mercato locale, non concretizzatesi, per mancanza di accordo con i fornitori, di detenzione e porto di arma da guerra, rese clandestine, di rinvestimento di capitali illeciti in attività sia in Italia che all'estero, in particolare nei settori della ristorazione, del turismo immobiliare.